La palla in profondità per Pinza Utili, ora la botta a gran gol di Costa Ferreira alla minuto numero 15. Molto nuovo ufficiale del Teramo, ora per Ilari che può cercare la migliore posizione per andare a conclusione, invece serve Ciacci che va a siglare il 2 a 3 parziale. Grazie a tutti.